Il Tribunello de Trenta declara il fallimento della Valeron SRL, l'azienda che raddò fabbricare il bestione a forma di piramida sul confin di Canacei-Ciampedel. Un'opera gigante ma istrutta da su. Da mo' che annana l'architetto Enzo Zoraperra l'era stata buona di sburrare l'incanto della piramida del cemento e l'accelo, un'incanto che però l'ha indossata un'usso. Il baron della Valeron ha già detto che farà ricorso contro il provvedimento, sicuro di essere buona di far partire in Dodaneff il cantiere e salvare i suoi progetti del gran hotel a Catasteiles. Per l'azienda, l'autorità giudiziale ha già disponibile alcuni provvedimenti sui eri privati. L'azienda è stata buona, studi del professionista di Canacei, il ristorante La Stala e l'Antobiacca, anche le sue portoessi del Corro Della. L'appuntamento con il giudizio li ha i trenta che smest il Tribunale di Trent per un incanto che punterà via da una base di 1.300.000 euro. In questo caso, Enzo Zoraperra si declarerà sicuro di far fuori la questione di quello che già è fatta da tanto. L'amore non saprete pensare che la girà finire con il gran cantiere maestro Tassù. Già volerà dal buon amore moglie del tempo per cercare su la questione. Prendendo al Tribunale la nominata che è curadora del fallimento, la dottora Luisa Angeli, e la stabilì, ai 23 di ottobre, il primo appuntamento con i creditori. De segura, l'attenzione dei dotti, centadini, amministratori e operatori economiche l'è ditta per la gran piramide abbandonata, che non è ditta un problema per la sicurezza, ma soprattutto è una questione di parbuda per il Paese. Non sarà solo niente trovare un imprenditore interessato sul cantiere e apportare in ante i Lurieras per l'ambizioso progetto dell'hotel a Catastella del Superior da 98 Cambres. L'ultima stima del Tribunale valutea di 4 milioni e mezzo il valore del cantiere. Le cruzie, le banche e la firma del post le corrispondono alle dimensioni della struttura.